È una battaglia non più solo nazionale, è una battaglia di tutte le popolazioni euro-mediterranee. Siamo nel cuore quindi di una situazione molto grave. Credo che alla fine non riusciranno a impedire totalmente come impediscono il funzionamento democratico del nostro Stato. Totalmente. Perché solo in questo modo, guardate, si dice che noi in effetti non ci si vede molto, no? Dai, hanno zero, tutta quella roba. Non è un motivo. Un motivo perché poi noi tiriamo fuori i contributi silenti, ma ogni anno qualcosa del genere che nessuno del nostro canale. Grazie.